99 sanzioni dall'inizio della stagione balneare, colminate dalla Polizia Municipale di Ravenna ai proprietari di Cani, sui 35 km di Lidi del nostro territorio, 1500 le segnalazioni. La Municipale conferma un trend di multa in ribasso. Il trend, se vogliamo, è in diminuzione. L'attività che svolge la Polizia Municipale non è ispirata da intenti repressivi. Il tentativo è di provare a cambiare una cattiva abitudine. Numerosissime, a migliaia, sono gli episodi di confronto tra operatori e conduttori di cani. Non di meno, purtroppo, in alcune occasioni si deve ricorrere all'estrema soluzione della sanzione. E ad ogni modo, rispetto ai casi, c'è sempre la disponibilità da parte mia e degli uffici di ricevere i multati, i trasgressori, per addivenire ad una definizione dei singoli casi e andare incontro alle esigenze di tutti. Quali sono le regole da rispettare? È consentito fruire della spiaggia recandosi negli appositi spazi demaniali individuati dal comune di Ravenna nelle spiagge libere. È inoltre consentito ai concessionari, ai stabilimenti balneari, di adibire al loro interno spazi per i cani. In entrambi i casi è fatto obbligo di condurre il cane al guinzaglio. In entrambi i casi è fatto obbligo di condurre il cane al guinzaglio.